Fabio Vettorell, giovane feltrino arrestato al G20 di Hamburgo e ancora in carcere, ma ora spunta un video che rafforza la tesi dei suoi legali. C'è un nuovo video sui fatti del G20 in Germania durante i quali sono stati arrestati due giovani feltrini, Maria Rocco liberata dopo oltre un mese di detenzione e Fabio Vettorell tuttora in carcere. Le immagini diffuse dai media tedeschi smentiscono la versione della polizia. Francesco Tomei. Un video della polizia tedesca rafforza la tesi sostenuta dai legali di Maria Rocco e Fabio Vettorell, i due giovani feltrini arrestati durante le manifestazioni contro il G20 ad Hamburgo. Nelle immagini diffuse dai media tedeschi si vede la carica degli agenti partire dopo la comparsa di un bengala sulla strada, assenti massicci lanci di pietre contro uomini e mezzi presenti nella testimonianza di un commissario della polizia locale. È un caso che continua a far discutere quello dei due giovani bellunesi. Maria Rocco è stata scarcerata nei giorni scorsi, mentre il 18enne Vettorell si trova ancora nell'istituto di reclusione minorile ad Annofersand. Secondo diverse ricostruzioni, i due sono stati arrestati mentre prestavano soccorso a una ragazza ferita durante le manifestazioni. Il trattamento nei loro confronti è parso via via sempre più eccessivo, considerando come i manifestanti tedeschi nel frattempo siano stati tutti rilasciati. Dal 7 luglio, data dell'arresto, Maria trascorso oltre un mese in cella, mentre Fabio è tuttora in attesa di giudizio e nel frattempo il suo regime carcerario è stato irrigidito, con una stretta supposta e telefonate. Ora questo video, che in Germania sta sollevando un polverone, in quanto sarebbero le immagini della polizia, a smentire la versione della polizia stessa.